Grazie a un accordo fra il Comune di Ivrea e la città metropolitana di Torino, la tessera di libera circolazione si potrà fare anche a Ivrea a partire dal 13 febbraio. La tessera di libera circolazione è un documento di viaggio regionale che consente alle persone con forte disabilità e in alcuni casi ai loro accompagnatori di utilizzare titoli di viaggio gratuiti su bus urbani e suburbani e sul sistema ferroviario regionale. La città metropolitana ha il compito di istruire la pratica e rilasciare i documenti di viaggio, si tratta del BIP, il Biglietto Integrato Piemonte, che consente anche le procedure di bigliettazione. Finora il Canavese aveva come punto di riferimento gli uffici torinesi di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino. Ora invece, presso lo sportello Anziani di Ivrea, si potranno rivolgere i residenti dei 105 comuni che fanno parte delle Porediese e i comuni che gravitano attorno a Quornier e Rivarolo. Da lunedì il Comune di Ivrea gestirà per conto di città metropolitana il servizio di erogazione di questa tessera che dà diritto alle persone con disabilità grave di usufruire in maniera gratuita di tutti i servizi pubblici a livello della regione Piemonte. Il Comune di Ivrea svolgerà questo servizio presso il suo sportello Anziani ed è a disposizione dei 105 comuni che fanno riferimento ai tre consorsi socioassistenziali del Canavese. Quindi diciamo da Caluso a Quornier e Rivarolo passando per Ivrea. Allora l'effetto è quello di raggiungere finalmente una zona ampia come il Canavese dopo aver raggiunto negli anni scorsi il Pinerolese, Susa e quindi Torino. L'effetto sarà chiaramente su un'utenza di almeno, su una popolazione di 150 mila abitanti si parla di un accesso medio di 3 mila aventi diritto. A questi poi dobbiamo considerare gli accompagnatori che verranno garantiti per quanto concerne tutti i soggetti con grave disabilità, quindi con una percentuale del 100% o con handicap grave.